Il crollo del barile ha portato innanzitutto le varie strutture di raffinazione, quindi le grandi compagnie petrolifere, i trader a stoccarsi in modo di poter immediatamente approfittare della riduzione dei prezzi. I nostri risultati sul primo quarto sono senz'altro conseguenze di una presenza capillare da parte dell'azienda sul territorio. Noi operiamo con tre uffici commerciali, uno negli Stati Uniti a Stanford, uno a Londra e uno a Singapore. La politica e la strategia dell'azienda è stata come sempre quella di mettere il cliente al centro di tutta la nostra macchina operativa e chiaramente questo cliente ha risposto in maniera positiva. Figlio di questo rapporto che abbiamo sul territorio e sulla clientela è anche il programma di nuove costruzioni che sul totale di gruppo di 42 navi nuove che stiamo costruendo ce ne sono 18 della DIS, quindi 18 petroliere. A proposito di investimenti, perché avete ordinato navi più grandi? Perché c'è stata una rivoluzione nell'industria della raffinazione, c'è stato uno spostamento fortissimo delle raffinerie dai luoghi di consumo ai luoghi più vicini ai luoghi di produzione. Da questo è generata una distanza maggiore per i raffinati da coprire e quindi una richiesta di navi di dimensioni maggiori per creare l'economia di scala relativa. Quindi si sta rivoluzionando abbastanza tutto il sistema. Si tratta sempre di navi eco, quali sono le loro caratteristiche? La caratteristica sostanziale è il minor consumo, un risparmio dell'ordine del 20 al 30% dipende dai casi e come conseguenza il minor consumo, minore emissioni nell'atmosfera. Non dimentichiamo che noi siamo particolarmente controllati nei nostri comportamenti ambientali, quindi le flotte di domani dovranno consumare di meno e inquinare di meno.